Ronnie McNutt è un ragazzo 33enne, lavora nell'editoria online, gestisce anche un podcast insieme ad un amico lo trovate online, trovate il suo account Twitter è tornato dall'Iraq, non l'ha gestita bene, dicono tutti che è tornato dall'Iraq, è una persona diversa soffre di disturbo da stress post-traumatico, PSTD, quello di cui soffrono spesso i militari il 31 agosto, mentre è in ufficio insieme ai colleghi, Ronnie fa partire una diretta su Facebook in questa diretta, dicono che sia un po' alticcio, a un certo punto estrarre una pistola e si spara, in diretta poco servono i tentativi di rianimarlo, Ronnie morirà lì eppure, da quel momento in poi, inizia una storia che coinvolge media, tecnologia, persone una storia che è quella di cui vorrei parlarvi oggi, a metà tra condivisione di contenuti, rimozione di contenuti e percezione del problema totalmente falsata Ciao internet, scusate l'introduzione un po' alla Lucarelli, ma volevo togliere la parte della tragedia della persona per concentrarmi su i fatti e la narrazione a posteriori già perché qualcosa c'è da narrare di particolare il fatto che non si parla del suicidio, ce ne sono stati tanti altri, del suicidio in diretta ma dopo giorni, cioè nelle ultime 24-48 ore ritorna la notizia ritorna la notizia non per il suicidio ma perché l'attenzione è totalmente spostata a un'altra tipologia di problema cioè il fatto che TikTok non riesce a rimuovere questo video dai contenuti segnalati agli utenti non è il video il problema, non è il suicidio il problema il problema è che TikTok non riesce a bloccare il fatto che gli utenti continuano a condividere questo contenuto e che finisce nella home page perché proprio TikTok? Perché le altre piattaforme non lo stanno condividendo? No, è partito da Facebook come vedremo dopo, per ora è rimasto online è passato su Twitter, ancora lo trovate su Twitter ma TikTok fa più paura fa paura perché espone questo tipo di contenuto ha una serie di ragazzini fa paura perché lo mostra come contenuto principale nei raccomandati fa paura anche perché probabilmente TikTok è un po' l'argomento del momento tra acquisizioni eccetera e quindi il problema si sposta l'attenzione si sposta non tanto a che cosa è successo ma al fatto che è successo proprio su TikTok e in effetti sì gli utenti lo stanno condividendo lo condividono tantissimo sul perché, sull'algoritmo che fa in modo che gli umani condividano contenuto violento beh, c'è poco da dire in realtà se volete leggerne approfonditamente senza quei pochi secondi che ci dedicherò io vi consiglio The Lost for Blood di Geoffrey Kotler che è forse il primo trattato che ne parla in maniera divulgativa non tanto dal punto di vista degli psicopatici e perché gli psicopatici lo fanno ma perché lo fanno persone normali long story short per farla in breve in genere lo fanno perché il fatto di condividere contenuti violenti ci rende più vivi ci fa apprezzare quello che noi siamo e come noi viviamo ci fa capire che noi stiamo meglio da un punto di vista psicologico non solo ma il condividerlo con altri è un ruolo di shock è come lo spaventare mi rende in una posizione di dominanza verso gli altri tutte cose che conosciamo da anni se volete andarvelo a vedere vi lascio in linkografia tutti i link compreso il link al libro ma non è tanto quello la cosa particolare la cosa particolare è come viene condiviso già perché dopo un po' Twitter si anima come tante altre cose inizia a mandare gli screenshot dicendo attenzione queste sono le immagini se vedete un filmato che parte così toglietelo perché se vedete quest'uomo nel filmato sta per compiere un suicidio non volete guardarlo e la rete però si ingegna poche ore dopo infatti una mamma scrive mia figlia l'ha vista la tenuta sveglia tutta la notte e nella versione editata è quel cioè lei ha visto una versione diversa ha visto la versione che inizia con i gattini già perché il le persone iniziano a modificare questo contenuto e lo modificano mettendo davanti altri contenuti quelli di influencer quelli di altre persone quelle di gattini a un certo punto tagliando il video e partendo direttamente nel momento in cui Ronnie si spara le persone sono cattive no l'abbiamo visto prima le persone vogliono scioccare e più o meno funziona la cosa ancora particolare che mi fa riflettere è che il discorso non si sposta su tutte le piattaforme solo per il tutto solo per TikTok eppure Tom Clare ancora ci racconta come un amico della vittima che era lì con lui dice che mentre Ronnie era ancora vivo hanno segnalato il contenuto a Facebook vedendo che era in live cosa che faceva piuttosto spesso perché anche loro lo seguivano mentre Facebook ha detto che quel contenuto non violava gli standard ancora una volta gli errori di moderazione di Facebook enormi devastanti dati anche e soprattutto secondo me dal volume enorme di contenuti che devono gestire ha fatto in modo che il contenuto rimanesse online per ore rimanendo online per ore venisse salvato riproposto su Twitter riproposto su Facebook riproposto bla bla mentre però Facebook sappiamo e tra l'altro noi lo sappiamo bene perché facendo proprietà intellettuali da un lato e aiutando le vittime di revenge dall'altro a rimuovere i contenuti ha una possibilità di fare fingerprinting cioè di creare una firma digitale che viene utilizzata per rimuovere quel contenuto in tutte le accezioni da tutta la piattaforma l'hanno usato anche per i contenuti terroristici lo stesso teoricamente dovrebbe avere Twitter ma non sta funzionando nel caso in cui ce l'abbiano non è attivato adesso pare che la stessa cosa paradossalmente non l'abbia TikTok ed è un po' particolare perché TikTok invece è diventato famoso per essere la parte di la parte di proporre contenuti anche contenuti di similari quindi contenuti legati ai gusti quindi in teoria l'intelligenza artificiale classifica i contenuti e li riesce a trovare abbastanza bene da poterti poi proporre contenuti similari quindi questa cosa fa un po' impressione certo è che il problema esiste esiste soprattutto per l'utenza che TikTok ha che è fatta principalmente di ragazzini e questa cosa ovviamente fa paura fa paura molto fa paura ai genitori fa paura agli investitori probabilmente che su TikTok qualcosa devono anche investirci adesso fa paura in un ambito più globale di social media in cui la perdita di controllo inizia a diventare palese e il fatto che anche le piattaforme non riescano a fare policing in maniera normale beh fa paura tanto tutto qui e voi cosa mi raccontate l'avevate trovato l'avete visto cosa ne pensate avete mai visto contenuto di quel tipo online raccontatemelo qui sotto sono curioso di sentire la vostra opinione e se il video vi è piaciuto condividetelo fate like o iscrivetevi al canale io sono Matteo Flora e tutti i giorni vi parlo di algoritmi e regole che governano macchine ed umani con ciao internet mi trovate su podcast youtube facebook ma anche con la newsletter e telegram trovate tutti gli indirizzi a matteoflora.com e come sempre anche questa volta grazie ciao a tutti ciao a tutti